Buongiorno, sono Michele Piazza, sales manager di Salami Hydraulics SPA. Con questo video ho il piacere di presentarvi la nuova linea di pump cast iron, PG-330 e PG-331. Stiamo parlando di un pump cast iron externa, con un displacimento da 23 a 80 cm³ o da 1.43 a 4.91 cm³. La pressione di lavorare fino a 280 bar o 4.000 PSI. La pressione di lavorare fino a 320 bar o 4.650 PSI. Il compagno di questo pump, fatto in due pezzi, permette l'installazione anche in spazio confinato, come nel caso dei nuovi TARC 4 NG. PG-330 e PG-331 sono disponibili con l'utilizzo europeo, SA-B flange, SA-C flange e ISO flange. PG-330 è ottimizzato per la produzione alta volume e dedicato al mondo dell'OEM. È disponibile come single, tandem e triple pump, PG-331 con diverse opzioni come rear port, common suction, priority load sensing bar. PG-331 è il stesso prodotto, ma è ottimizzato per capire le necessità di servizio. Ha la trasformazione di single in tandem e il piggyback con un pump alluminio. Vi invito a guardare il nostro canale dedicato a YouTube dove puoi trovare diversi tutorial mostrando come è facile l'installazione e la manipolazione del nostro pump. Ascoltate i nostri video!